Quindi cominciamo prima con Adriano, Adriano viene da Roma, Silvia, io dico da Venezia, poi citerà lei il paese esattamente uguale, proprio nelle montagne, in mezzo agli abieti alla neve, proprio in una bella valle delle Alpi, e poi i due ragazzi invece dalla Polonia, il duo. Riepiloghiamo un po' perché questo è questo ciclo di quattro concetti, come vedete ci sono dei titoli sempre con riferimento greco, li abbiamo un po' tenuti sempre, oggi cerchiamo di raccogliere le fila, oggi abbiamo Odisseo e Prometero, allora la musica la collegheremo di volta in volta poi a questi temi, però facciamo una premessa, perché Odisseo? Una delle cose che io ho notato, un problema importante della pubblicazione all'estero, quando si parla di Grecia e della cultura greca, la Sicilia viene esclusa completamente, non la pensa nessuno, perché oggi la Grecia ha una collocazione precisa, e allora anche nella nostra conversazione, vi sentite? Anche nella nostra conversazione di oggi, io cercherò di usare la parola greci, ma ho accompagnato da una specifica, intanto la parola greco, i greci vengono chiamati greci da una città, graicos, usata dai latini, per cui i greci stessi non si chiamavano loro greci, i persiani che scrivono molto dei greci, chiamano i popoli del mare Ionio, prego. Quindi parleremo degli Ionio, lo Ionio che cos'è? Il mare Ionio, la Sicilia, Siracusa è la Taumina Messina, la Calabria fa parte di tutto questo, e chi c'è hanno posto? Tranquillo, i telefonini possiamo... Potete rispondere? Non mi chiediamo. Non mi chiediamo. Non mi chiediamo. Non mi chiediamo. No, non mi chiediamo. Allora, dall'altra parte abbiamo Iterca, se uno da Taumina fa dritto si trova Iterca della zona. Mentre normalmente la gente pensa che Iterca si è messa vicino a Dottia o a qualche posto remoto. Iterca è più forte. Quindi quando si parla di Odisseo, si parla di questa cultura greco, ellenica, ionica, che due volte precedente con Romero siamo a un greco due volte antico. Non è quello greco antico, ma è quello oltre a quello antico. E' importante che quando affronteremo concetti tipo la psiche, il corpo, per loro non era quello che pensiamo noi oggi, era totalmente diverso. Siccome faremo adesso una distinzione molto più chiara tra la musica ispirata alla modernità, la modernità noi la considereremo dal 33 quando muore il Dio Parma ed è quando c'è la risurrezione di Cristo. in quel momento c'è un mondo moderno e i greci vengono la cultura greco sicane antico, troviamo un modo, ecco sì sicolo calabrese greco che tramonta perché arriva a San Paolo, arriva qua a Malta e dice c'è un nuovo progetto, c'è Cristo, c'è la risurrezione. I siculisticani, greci, ioni, ellenici, per poi dopo arriva a quest'altro, si chiedono ma ci racconti c'è serie, non esiste la risurrezione, non gliel'idevano in faccia. Quando lui è andato ad Atene abbiamo degli scritti dove dicono questo Paolo racconta questa storia ma è fuori di testa. è chiaramente una cosa che non viene. Per cui noi faremo una distinzione tra la musica precedente al concetto del Cristo e la musica dopo che è tutto il resto del nostro mondo occidentale, da 33, e poi non sappiamo la data, usiamo il 33 come data, potrebbe essere anche il 35, il 36, da quella data fino ai giorni di oggi. Quindi questa è la grande linea. Ora con... Prego... Ah, fa paolo prego... Vediamo, vediamo... Vediamo, vediamo... Questi sono lì, vediamo... Questi sono anche qua... Allora, parlando... Poi con Barbere faremo questa distinzione. Perché stiamo facendo questa analisi? Perché cerchiamo di metterci nella mente dei compositori. Quando un compositore compone, cosa lo ispira? Allora, abbiamo fatto... Quanti di voi hanno qui per il Padre Nostro? E lo faremo veloce veloce. E ho bisogno dell'aiuto chiaro con il Padre Nostro. E' una preghiera che tutti facciamo in chiesa. E io quando la facciamo nella mente, la fanno in inglese. Devo dire che mi confondo. La chiesa è veramente l'articolo in italiano. L'ho l'articolo in inglese. E già mi confondo a volte lo stesso elemento. Ho preferito seguire le messe in latino, perché mi era più facile seguire la messe in latino che quella in inglese. Adesso il Papa ha pietato le messe in latino, perché da un mese... Da un mese... Alcune messe si fanno mai in assoluto segreto di una sentente che è il suo ente, perché se il prete viene denunciato al Vaticano con la fiesta in latino, il Cardinale Roche ha scritto regole dure, precise, fiesta in latino. No. Siccome è la vita che l'otto per il latino e per il greco sono un po' traumatizzato a queste cose. Ma, diciamo, andiamo indietro. Due mesi fa ero traumatizzato da un'altra cosa. Ho scoperto che il Padre Nostro avevano cambiato un... Non ci due, in tentazione avevano cambiato come... Non ci abbandonare. Ero fuori in mondo. Ho chiamato mia madre quella notte, tre giorni in prima, e mi accoglieva di tutto. Ma è così? Sì, sì, ma è così. Ora, un musicista che compone sul Padre Nostro, davanti a non ci indurre in tentazione, fa armonie, dissonanze, è il Dio ebreo, è il Dio che ti mette alla prova. È un concetto assolutamente importante. E poi dopo, torna a noi la pace. Per cui risolve una grande tensione con delle armonie successive. Quando tu mi metti un abbraccio e poi dopo mi metti il... darci la pace, non c'è base della musica. Per cui la musica musicale è un problema enorme. Senza considerare che San Luca e San Matteo entrambi ritengono il Padre Nostro. Allora, faccio il Padre Nostro procedimento e poi dovremo fare delle cose simile che lo promettevo. Allora, se io dico Padre Nostro che sei nei Cieli, introduzione, quindi come musica metto una introduzione, e poi sia, allora Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Abbiamo tre invocazioni celesti. E allora il compositore in questa struttura ci darà tre importanti frasi musicali o ripetizioni di frasi musicali, ci ha un'esplicazione specifica. Poi, dacci oggi il nostro padre quotidiano, rimetti a noi il nostro ideologico che noi rimettiamo il nostro ideologico, non ci indurre in tentazione, libera la nostra, liberaci dal padre. Abbiamo quattro invocazioni terrestre. Allora, se rifaccio quel Padre Nostro ne ho tre e quattro. Sette accenti sono il numero della creazione, il numero del Dio ebreo, uno si mette lì e compone. Allora, quando pensate a un proposito, non pensate a dei suoni che vengono così, ci sono dei concetti dietro che già i testi ce li offrono. Con quel concetto noi componiamo. Su questo è chiaro, nessuno ha dubbi su questo. Un altro esempio, San Luca. San Luca invece è il ideale, Padre Nostro, che sei nei Cieli non lo dice, perché San Luca è un Padre Nostro che è fatto per gli apostoli, intimo, mentre l'altro Padre Nostro è fatto per i cristiani, per la comunità larga. E allora, San Luca dice, Padre Nostro, la collocazione non serve, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Allora, l'ho detto giusto? Allora, Padre Nostro. che si dice? Si è santificato il tuo regno. Venga il tuo regno. Si è fatta la tua volontà. E così c'è? No, 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 perdone. Ok, ok, ok. Allora, Padre Nostro. Si è fatta la tua volontà. Venga il tuo regno. Si ferma bene. Si ferma bene. Poi, darci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri regni. Capito? Non ci indurre in tentazione. Quindi ha solo cinque accenti. Uno, due. Uno, due e tre. Ma non ci indurre in tentazione è lì con San Luca. Quello di San Luca è ancora più vecchio di quello di San Matteo. Per cui abbiamo, è tutto, lo abbiamo in latino, greco latino, lo abbiamo in aromaico, però questi due testi ci dicono che questa frase del Dio ebreo che ci indurre in tentazione esiste in tutti i due regni. Il Papa non l'ha cambiato dal testo latino, ha tolto la messa in latino, ma il testo non lo può cambiare perché è quello che è. Ha scambiato la traduzione. E allora lì il compositore moderno che non conosce il testo originale se il Papa lo cangella e allora farà una musica diversa rispetto a chi conosceva il testo originale farà una musica giudice ebreo che è totalmente diverso. Ci siamo come concetto. Il Papa fa quello che vuole perché il Papa però noi musicisti avremo delle conseguenze di ispirazione musicale in base a questa situazione. Ok? Ora andiamo a linee generali invece con il Prometeo. Prometeo perché io tendo a prendere le cose a punto siciliano. Per cui mi guardo, mi leggo per esempio Diodoro Siculo e vedo quello che Diodoro Siculo perché troviamo tanti Prometteri e nel corso della storia il Prometeo ha creato, è cambiato, è stato incatenato, poi c'è il Prometeo liberato nell'illuminismo, il Prometeo diventa un simbolo fino a Beethoven fa la sinfonia la terza eroica, Prometeo, Napoleone, cioè il Prometeo cambia nei secoli. ora, il Prometeo da cui partiamo noi. Il Prometeo che noi prendiamo adesso lo prendiamo da Diodoro Siculo. Prima di Prometeo ci sono, abbiamo Uranus, Uranus, Egea, Uranus è il cielo stellato ed è come la Cappella Sistina prima di Michelangelo, tutto blu e le stelle. Uranus e Egea, dal loro amplesso nascono i titani, la titanomatia. Questi titani, Uranus, allora Uranus ricordiamoci Ur, Ur è la radice della prima città mitica della Mesopotamia, Ur significa splendente, pietra splendente, quell'Ur è la stessa pietra splendente delle piramidi, le piramidi erano importantissime perché splendevano, adesso non c'è più la copertura di pietra, marmo, che rifletteva la luce del sole, per cui tenete questo Ur in mente e poi tutto quello che adesso togliamo come Ur. Per cui, Uranus, Egea, Uranus a un certo punto si preoccupa che i titani possano togliere il potere a lui, per cui li spinge nelle viscere della Terra, nelle viscere di Egea. Egea, ma gli figli qua non possono, sono sempre in uno stato di embriote, non possono nascere, per cui parla con gli altri figli nati prima e i titani, dobbiamo liberare questa situazione da Uranus. E cosa arriva? Arriva lì con la falce, la falce è una cosa importante che viene dall'India, Megara, la storia di Sicilia è legata alla falce. Con la falce tagliamo i genitali di Uranus. di Uranus. Allora, questi genitali tagliati con la falce, dai titani, vanno a cadere nel mare di Cipro, lì nasce Afrodite, dalla schiuma del mare, e la baia si chiama tuttora la baia di Afrodite. Invece il sangue con la falce cadono a Messina, tagliano, creano la terra più fertile del Mediterraneo, e qui nasce la Sicilia. Poi Prometeo viene condannato e va a finire nel Donbass, tra il Donbass e la Georgia, e lì è incatenato. Quindi andate, Prometeo è incatenato, ma voi troverete, stasera il concetto è anche un museo di libertà, Prometeo è liberato, vedremo poi dopo. Quindi Prometeo è incatenato, nel Donbass, e la ragione è... Allora, viene incatenato, Zer si dice, ti mando un'antica, non ricordo se l'acqua si mangiava il fegato, di notte o di giorno? Se la mangiava di notte o di giorno? Di notte o di giorno? Di notte. Allora, questa è una cosa importante, che gli antichi siciliani sapevano bene, il fegato è un organo che in meno di quattro settimane, dicono tra tre e tre settimane e mezzo, si rinnova tutto. Per cui questo fegato che rinasce non è una coincidenza, come forse sapevano. La mutana è continua. Eh? La mutana è continua, perché il fegato si... Sì, esatto. Allora, quindi questo è interessante questo tipo di tale. Comunque, il nostro proteus è bloccato lì perché si dice, mi ha dato il fuoco agli uomini. Prometheus ha dato la conoscenza tecnica all'uomo. E quindi i due fratelli, Prometheus e Epimeteo. Prometheus è quello che pensa prima, che prevede. Epimeteo è quello stupido che ci pensa dopo, un po' troppo tardi. e vengono tanti problemi da Epimeteo, il fratello. E Giorgio giocava sui due fratelli. E a fare il gare, ha dei problemi con Pandora. Ora, prometo che è quello che prevede. Prevede il diluvio. Dice, Zeus farà questo per danneggiare l'umanità. E dice al figlio del Camiglione, che si chiamasse, e Pirra gli dice, ci sarà, preparatevi al diluvio del Camiglione. Pirra vanno a salvarsi dal diluvio sull'Etna. Io parlo sempre, parliamo di un mondo pre-giudaico cristiano, che è il mondo siciliano, o sicolo, o sicano. Quindi dal punto di vista dei siciliani, questa storia. Questi stanno sull'Etna, nove giorni, nove notti, e poi scendono, e non c'è nessuno. E allora, Giove gli chiede, siete sopravvissuti? Come regalo, esprimete un desiderio. Cioè, noi vorremmo avere un altro genio. Ed è un anziano. Va bene. E allora, troverete queste immagini in tante, immagini venascimentali. Lui tira una pietra sulla schiena, e diventano uomini. Lei, poi, sulla schiena, e diventano donne. Così rinasce l'umanità, dal punto di vista dei siciliani, non quello di Noa, Noa, Noè e così via. Ci siamo qua perché tutto questo ci riporta al punto di vista della Sicilia e musicalmente ci porterà poi di nuovo in Sicilia, proprio qua da noi, nel nostro territorio. Ehm, questo basta. Cominciamo. Applausi. Applausi. Allora, Adriano, suonerà adesso di Granados, Goyesca. Applausi. 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 Come, proprio, l'elemento del nostro, del viaggio di ritorno, che, caratterizza, eh, la vicenda, appunto, di Unisse, in qualche modo, sigilli anche, che ha poi fatto la vita del compositore stesso, che vuole poi. Ehm, una bellissima presentazione, ecco, magari sui testi. Ehm, il primo, la ragazza e lo signoro, è dedicato alla moglie di Granados, Amparo, ed è una scena notturna che si svolge in un giardino, in cui c'è appunto una donna che sta, cantando, eh, tutto il suo amore per il suo amato, che, eh, è distante. E, seguendo il canto dell'usignolo, si, si chiede a sua volta se, eh, non sia appunto anche, il canto di questo uccello, un canto d'amore per una amata lontana. E, e quanto riguarda invece il secondo pezzo, andrò a suonare il, eh, i corteggiamenti, i componenti interessanti, i marcos, alle macas, ovvero dei ragazzi, alle ragazze, eh, che apre appunto questa suite pianistica. Per me, il dito, che,